Siamo qui alla Camera di Commercio di Ravenna per la premiazione del premio Ambiente Futuro dedicato alle scuole. Questa iniziativa è un'iniziativa che la Camera di Commercio ha avviato nel 2010, siamo giunti alla quarta edizione e c'è stato sempre un crescendo di partecipazione di scuole e di studenti e un crescendo di numero di progetti presentati nell'ambito del premio. A conferma dell'importanza e della sensibilità che la città e le scuole hanno verso le tematiche ambientali. Oggi premieremo alcune scuole, però la selezione di quali scuole premiare è stata molto complessa, ha dato il numero e la qualità degli elaborati presentati. E direi che questo evento sta diventando ormai un momento di incontro importante proprio per far capire come sviluppo, sostenibilità, benessere, siano tutti elementi e globalmente importanti e vanno perseguiti contemporaneamente quando vogliamo parlare di una società migliore per il futuro e per i giovani che sono il soggetto di questo premio. Grazie!